A Bivona ecco Eura Fu, il quartiere della Battia appena riqualificato, il servizio di Gaetano Ravanaccio. Eura Fu, dell'atteso momento di inaugurare il nuovo itinerario artistico-culturale in occasione dei borghi dei tesori feste della settimana della cultura a Bivona che si svolgerà nei prossimi 3-4 settembre. Eura è un'idea semplice diventata in poche settimane un progetto che ha dato lustro al vecchio quartiere della Battia. Tra le vani ebre artistiche abbiamo narrato magistralmente storie paesane e aneddoti di personaggi che hanno vissuto in questo quartiere, dice Erika Gratino dell'associazione Sole Sui Sicani, componendo la storia che ancora ci viene tramandata. Le note armoniose dei giovani musicisti della scuola di musica non negro con le loro performance musicali tra i vicoli ci hanno allietati ed emozionati. Infine la location dell'area degustativa, che ha deliziato con gusto, bella vista e gran cuore. Grazie, continua ancora Erika Gratino, a chi ha contribuito gratuitamente alla realizzazione di questo piccolo sogno. L'associazione Primavera Ollus per avere sostenuto tutte le spese dei materiali e per il supporto logistico. Parte dello staff dell'associazione Sole Sui Sicani, Lorena, Erika, Cristina, Carmen, Rosalia e Maria Concetta per l'organizzazione e il coordinamento del progetto. L'amministrazione comunale per le autorizzazioni, l'assessore Cannizzaro per il supporto personale. La scuola di musica, l'onigro per le performance musicali, tutti gli abitanti del quartiere, che ha adottato in due settimane di stancabile lavoro e per la splendida collaborazione attiva, l'intero progetto. Grazie a vivono ambiente, dice ancora Erika Gratino, per la pulizia straordinaria. Mela la mela, Nino Spallino, Ignazio Pullara, Gaspare Mortellaro, Rosario Parla, Giuseppe Parla per l'aiuto extra.